CiaGPT vede e sente grazie ad un nuovo aggiornamento che porta l'intelligenza artificiale ad un nuovo livello. Possiamo ora inserire delle immagini sia da PC che da smartphone e ottenere informazioni molto utili per svariati utilizzi. In questo video vediamo come utilizzare queste nuove funzioni di CiaGPT e 7 casi di utilizzo con l'inserimento di foto e immagini davvero utili e sorprendenti. Non dimenticare di lasciare like e di iscriviti per rimanere aggiornato sui contenuti. Iniziamo! Siamo davanti alla schermata di CiaGPT. Per abilitare CiaGPT Vision dobbiamo andare su GPT4 e utilizzare la modalità di default disattivando quindi eventualmente la ricerca online di Bing. Vicino alla barra di inserimento testo possiamo ora notare l'icona dell'immagine. OpenAI sta distribuendo questa nuova funzione gradualmente negli account quindi se non compare ancora l'icona per inserire le immagini aspetta ancora qualche giorno e potrai utilizzarlo. Clicco sull'icona dell'immagine e ne importiamo una. Ora gli chiedo come posso aggiustare questa scarpa? Ho inserito una foto di una scarpa rotta senza copyright presa da un sito di immagini per vedere se CiaGPT è in grado di comprendere l'immagine e aiutarci nella riparazione. Ecco il risultato. L'IA ci suggerisce come primo step di pulirle. Nel secondo punto troviamo Usa una colla specifica per scarpe, questo tipo di colla è progettato per resistere alla flessione e all'umidità. Applica la colla sulle aree scollate seguendo le istruzioni del prodotto. Poi troviamo Pressione, tempo di asciugatura, rinforzo, suola e manutenzione. Per aggiustare una scarpa che ha solamente la suola staccata sembrerebbero indicazioni corrette. Penso sia davvero sorprendente che abbia compreso l'immagine a tal punto di poter fornire dei consigli su come riparare la scarpa. Ma vediamo ora un altro esempio utile. Nel prossimo esempio proviamo la nuova funzione di CiaGPT per il conteggio e l'analisi degli oggetti. Ho inserito un'immagine con delle viti in fila e ora gli chiedo Quante viti ci sono nell'immagine? CiaGPT ci dice che ci sono 10 viti. Proviamo a contarle. 3, 6, 9, 10. L'analisi è corretta. Direi davvero sorprendente. Questo è un altro esempio che potrebbe tornare utile non solo per le viti ma in tutte le situazioni lavorative non dove abbiamo bisogno di contare qualcosa. Potrebbe essere quindi nel campo industriale per contare dei pezzi, in un magazzino per contare della merce, oppure anche in casa per contare degli oggetti. Penso che il campo di utilizzo sia davvero ampio. Gli ho chiesto ora che tipo di viti sono? Leggendo il risultato vediamo che le viti nelle immagini sembrano essere viti autoperforanti o autofillettanti con una testa esagonale. Poi dice anche che la testa esagonale indica che possono essere serrate con una chiave a bussola. Tuttavia per una determinazione precisa del tipo di vite sarebbe ideale avere ulteriori informazioni. Ed è corretto anche perché non vedendo la testa della vite non sappiamo se potremo utilizzare anche altre chiavi. Gli ho chiesto infine dove posso acquistarle. Come indicazione troviamo negozi di ferramenta locali, centri edilizio, online e fornitori industriali. Arrivati a questo punto penso che questa funzione potrebbe tornare davvero utile in quelle situazioni dove ci mancano delle viti per il montaggio di qualcosa e vogliamo identificarle per vedere dove acquistarle. Per questo esempio ho preso un'immagine senza copyright con un testo scritto a penna. In questo caso il testo è scritto in inglese ma c'ha GPT può trascrivere i testi in tutte le lingue. Questo prompt ci servirà per trascrivere un testo da un'immagine. Vediamo come si comporta. Ecco la trascrizione pronta. Il testo è scritto correttamente, addirittura corretto Kids, ha riportato anche la checklist con dell'emoticon, però c'è una V in più su Bathroom. E questo, anche per ricordarci che l'IA sta avanzando ma non significa che non presenta e non presenterà degli errori. Vediamo ora un esempio più particolare. Ho inviato a Cia GPT una foto di bottiglie di alcolici e gli ho chiesto quali cocktail potrei preparare con queste bottiglie. Non conosco tutti gli ingredienti della maggior parte dei cocktail, quindi se qualcosa è sbagliato segnalatelo pure nei commenti. Ci ha proposto come primo esempio un martini alla mela. Con la vodka absolute che possiamo trovare in alto a sinistra e il liquore alla mela che teoricamente dovrebbe essere questo qui sulla sinistra. Per il white russian ci dice di combinare l'absolute con l'air rum chata, se si dice così, per ottenere un sapore simile a quello di un white russian. Quindi probabilmente non è il vero white russian ma qualcosa di simile. Ne elenca poi vari altri come whisky sour, pina colada, shots, eccetera. Ho scritto poi inventa un cocktail non esistente con le bottiglie delle immagini e Cia GPT ha preparato un cocktail chiamato melodia tropicale compreso di ingredienti e procedura. Non ho idea se questo cocktail possa essere buono o no, ma è davvero sbalorditivo il fatto che abbia inventato un cocktail con le bottiglie dell'immagine. Come prossima prova vediamo un prompt che può diventare uno strumento di supporto per designer. In questo caso per interior designer. Ho scritto come posso migliorare questa stanza. Cia GPT scrive che la stanza pare già ben arredata e accogliente, anche perché su Pexel troviamo tutte immagini di stanze da esposizione, ma trova comunque delle soluzioni per migliorarla ulteriormente. Come primo punto partendo dall'illuminazione considera l'aggiunta di lampade da terra o da tavolo per creare un'illuminazione più intima e una luce calda per rendere l'ambiente ancora più accogliente. Ci consiglia poi di aggiungere delle piante, altro punto utile l'aggiunta delle tende e qualche quadro artistico. Nel documento di Cia GPT Vision che vi lascio anche in descrizione, ho trovato un esempio o meglio un'immagine per un prompt riguardante il campo medico. Torniamo su Cia GPT, ho inserito l'immagine del documento radiologico e ho scritto Sei un radiologo professionista? Scrivi un report radiologico. Cia GPT dice che non è un radiologo professionista e speriamo che per evitare errori sulla salute umana l'IA venga utilizzata solamente come strumento di supporto. Però prepara comunque una piccola bozza di report dove dice che i polmoni appaiono ben aerati, con la visualizzazione di strutture vascolari e bronchiali. Vi è una densità aumentata nella regione centrale e che potrebbe rappresentare strutture vascolari o patologie. È sicuramente uno strumento per facilitare la lettura ad un radiologo e quindi notevole, ma ovviamente da non utilizzare per scopi personali. Come ultima prova ho scelto la traduzione di una lingua per noi italiani poco intuitiva. Ho chiesto infatti di tradurre l'immagine di questi biscotti che dovrebbero essere gli Oreo dal cinese all'italiano. Aspettiamo la generazione. Confrontando l'immagine con i testi del risultato scopriamo che questa volta il risultato è errato, perché i due testi non corrispondono. La scrittura cinese non è semplice da decifrare per la particolarità dei caratteri e già GPT non è riuscito a riconoscerli. Ho inserito questa prova nel video soprattutto per farvi vedere dove sono gli attuali limiti che comunque si spostano molto velocemente. Nonostante i suoi limiti infatti GPT-4 è veramente incredibile in svariatissimi utilizzi e vi invito a provarlo perché può tornare davvero utile. Ricordo che se non è ancora presente l'icona dell'immagine vicino alla barra di testo dovrebbe apparire nel giro di qualche giorno per gli utenti di CiaGPT Plus. Poi speriamo che più avanti lo inseriscano anche nella versione gratuita. Per oggi è tutto, non dimenticare di lasciare like e iscriviti per rimanere aggiornato sui contenuti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!